Perché questo? Perché magari in estate, soprattutto in estate, perché è in estate che le piante crescono, c'è stata un'estate calda, con tante precipitazioni, quant'altro la pianta si è cresciuta. Mentre qui che vediamo che è stretta, magari in quell'estate lì è secco, che ne so io, o in estate è fredda e tutto quanto, la pianta non è cresciuta. Questo qua è stato testato anche scientificamente perché a San Michele, che c'è una scuola di agricoltura e di foreste, anni fa hanno piantato delle piante in una località montana, dopo le hanno segnato sul calendario tutti gli eventi, le hanno tagliate e la pianta corrispondeva esattamente a quello che avevano scritto sul calendario. E questa qua quanti anni c'è? Oddio, bisognerebbe stare qua a contarla, ma questa qua avrà sicuramente 60 anni, cioè dovremmo stare qui a contare anche di più di 60. Qua sono due, una e una due.